signore e signori buonasera e bentornati a Talk Sicilia io oggi, diciamo questa ultima puntata dell'anno del 2022 del nostro programma di trattenimento lancio un appello dovete aiutarmi a ritrovare un mio amico io da parecchi mesi non so più che fine abbia fatto il mio amico e collega Ismaele Lavardera giornalista di inchiesta con tante qualità, con tante caratteristiche l'hanno reso un personaggio unico, capace di andare a scavare sui fatti sulla cronaca, senza porra di niente e di nessuno dov'è Ismaele Lavardera? Dov'è finita l'ex Iena? Ismaele benvenuto, perdonami questo trappolone iniziale ma così tu hai il senso del humor e sai che comunque qui sei sempre il benvenuto non è la prima volta grazie, grazie Piero in realtà non ho mai perso lo spirito diciamo da giornalista che mi porto dentro perché poi al di là del dominio lo meno io mi sento e lo continuo ad essere un giornalista che cerca di onorare al meglio quindi hai la doppia ingiuria, giornalista e onorevole? sì, perché diciamo che in questi primi mesi la cosa che mi porto appresso dalla vecchia esperienza di lavoro è l'operatività aspetta però Ismaele prima di entrare nel dettaglio proprio di quello che ci vuoi raccontare per chi non lo sapesse, Ismaele con una fantastica carriera giornalista sulle spalle, non alle spalle, state ben attenti perché è importante questa discriminazione ha deciso di dedicarsi alla politica lo ha fatto candidandosi alle elezioni regionali vincendo le elezioni regionali nel movimento fondato da Cateno De Luca con ben 6712 preferenze che se ci pensate bene non sono poche per una persona che è sempre stata all'altra parte della barricata a fare inchiesta, a contestare la casta, a contestare la mala politica e quindi inquadriamo il personaggio un giornalista di inchiesta che oggi fa il deputato regionale perdonami Ismaele ma era doveroso perché non è detto che tutti sappiano che cosa stai combinando si vede che sei, come dire, preparato sul tema perché a volte il giornalismo dà per scontato determinate cose ed è giusto proprio dare la possibilità di non dare nulla per scontato sono stati sei mesi in cui è cambiata la mia vita mi sono catapultato in questa nuova esperienza io non ho mai fatto politica quindi i miei quasi 7000 voti sono veramente figli di una opinione pura io non avevo una struttura, non avevo i consiglieri comunali che lavoravano con me ed è stata una grande sfida nel senso che se andava bene era un risultato l'ipotesi che andava male era un problema perché io l'avevo lasciato, mi ero dimesso dal vecchio lavoro non potevano coesistere le due cose insieme devo dire che è stato un rischio che poi ho deciso di correre e fortunatamente mi ha dato ragione questi due primi mesi al Parlamento più antico del mondo dove sono onoratissimo di poter svolgere questo ruolo mi rendo conto che a volte mi manca l'operatività del mestiere perché lì è un Parlamento perché diciamoci che la politica è soprattutto un rito è un rito dove devi ovviamente rispettare determinate caratteristiche si discute, si parla ecco io vorrei una mia legislatura in cui le parole potessero stare un po' più a zero e desidero fare dei fatti perché il rischio che si ha e lo dico con molta onestà e anche mettendomi in discussione che si possa in qualche modo vivere in una bambacia lontano dalla realtà lontano dai problemi beh però tu in questi primi tre mesi hai fatto tutta una serie di cose che dimostrano che in realtà tanto lontano dalla realtà non sei rimasto cioè perché ora faremo anche l'elenco dei primi interventi da onorevole di Ismaele ma in realtà non è il racconto tanto di un intervento legislativo ma quanto di un intervento sul territorio un po' hai fatto il giornalista di inchiesta con il tesserino parlamentare esattamente io vorrei proprio mantenere questa realtà questa tua cifra operativa questa cifra operativa che mi permette sì di raccontare le cose perché io ho anche un contatto continuo diretto con le persone che mi seguono attraverso i social perché è giusto così dove chiedo loro anche proprio di rendi contare l'attività parlamentare perché io credo che ogni parlamentare debba in qualche modo sempre comunque rapportarsi con quelli che hanno dato il voto e capire se sta facendo bene o male non a caso io una volta al mese organizzo un incontro aperto a tutti nella quale racconto le cose che ho fatto in cui chiedo ho fatto bene o ho fatto male cioè datemi dei feedback non ho imparato non ho fatto mai questo mestiere della politica e lo voglio fare nella maniera più trasparente possibile per incidere nel presente quindi diciamo che andare a fare un'ispezione in un ospedale faccio un esempio pratico come sono andato a Partinico e farlo da deputato cioè ti permette di essere ricevuto perché è nelle tue prerogative non ti possono chiudere la porta in faccia come facevano quando andavi con la telecamera esatto ti devono dare delle risposte registri quello che accade racconti quindi ha anche un ruolo di potere trasparenza al 360 di raccontare quello che succede e poi lo porti in Parlamento ma non è che per caso stai creando una nuova forma di cittadinanza attiva attraverso come dire l'utilizzo di una tua qualità professionale in chiave politica ma era quello che ho provato a fare col film cinque anni fa cioè il senso è la politica anche qui precisiamo cinque anni fa Ismaele si era candidato a Sindaco di Palermo una candidatura reale come poi dimostreranno le inchieste della magistratura perché gli accadono pochi problemi quel film però ha trasformato quella candidatura in un film reality dove raccontava personaggi che si muovono attorno come dire al contesto elettorale di una città grande come Palermo il problema della politica oggi del palazzo del Parlamento è che veramente la gente non sa che cosa succede lì dentro non conosce a volte anche per pigrizia ma anche per senso di sfiducia diciamo beh tanto non mi interessa nulla e quindi la difficoltà è fare capire che là dentro davvero si può cambiare il destino della nostra terra e quindi il mio ruolo oltre a essere operativo e propositivo quindi di proporre leggi di interrogazioni perché poi devi fare anche questo è quello di avvicinare raccontando quindi io sapevo fare questo raccontando cosa succede anche cosa non succede perché questo è anche un elemento il fatto che a volte non succede nulla e quindi mi permette di avere questa doppia peste e cercare di essere il più incisivo possibile e dare risposte a un territorio della provincia di Palermo che mi ha eletto e che cerca veramente risposte ci sono dei territori che sono completamente abbandonati basti pensare alle madonie hanno grandi difficoltà le strade le scuole i trasporti vogliamo parlare anche del sovraffollamento dei daini e dei suidi è un problema che molti mi continuano a dire degli allevatori sembra una sciocchezza ma in realtà distruggono i campi degli agricoltori hanno difficoltà enormi ho chiesto anche un intervento importante all'assessore Pagana lo faccio anche qui ci sono delle realtà che aspettano che la politica si prenda prenda in considerazione i problemi dei allevatori che hanno vissuto un periodo di pandemia incredibile già distrutti dalla pandemia e che desiderano semplicemente coltivare la propria terra e quindi io credo che la politica la si debba fare proprio rimanendo nei territori io vado a palazzo dico sempre quelle volte in cui ci devo andare però preferisco lo sai che rischio cori che un giorno qualcuno arriva qualcuno dall'altra parte della barricata quella che è la tua e ti fanno il conto ah ma Ismaele la partera è venuto fortunatamente bisogna anche timbrare il cartellino ma lo faccio ed è giusto così quando c'è aula quando ci sono commissioni è giusto che io eserciti onori il mio ruolo da parlamentare ma preferisco quando non c'è aula vivere il territorio vedo che ti sei già come dire abbastanza assuefatto allo schema del deputato aggressivo operativo io però ti voglio riportare un po' indietro al tuo vecchio e comunque sempre presente mondo professionale perché una domanda un po' a bruciapelota la voglio fare cioè ma come ti sei sentito sedendoti la prima volta al Parlamento venendo di fronte e accanto persone di cui è scritto parlato persone di cui si dice che sono sotto processo per frequentazioni impresentabili senza andare ai massimi sistemi della criminalità organizzata cioè ma c'è un problema di come dire di rappresentatività in Sicilia ma allora come si fa a vincere le elezioni in Sicilia perché ora che l'avete provata con Cateno siete arrivati lì a un passettino però poi c'è stato un Moloch più forte di voi e ora ce l'avete di fronte guarda un articolo del Fatto Quotidiano dice che il nostro Parlamento è uno dei Parlamenti in cui ci sono un grande numero di indagati che non vuol dire condannati per carità di Dio ma di persone che comunque sono dubbie è stato particolare quando mi sono seduto nello scrandolo del Parlamento e come dici tu mi sono trovato davanti accanto dietro persone a cui ho fatto inchieste io ne conto almeno 8-9 deputati 8-9 deputati guarda sto cornutazzo è arrivato di più perché quando io ho deciso di quando Catano De Luca ha ufficialmente lanciato il mio nome alla corsa per la candidatura a presidente della commissione antimafia inevitabilmente ho avuto i primi malumori nel senso che mi hanno chiamato pezzi importanti della maggioranza dicendomi che non ero assolutamente gradito alla maggioranza e che non avrebbero mai permesso che potessi fare il presidente della commissione antimafia questo è un fatto molto grave sì questo è un fatto molto grave perché per per le parlamentare la commissione aspetta sempre all'opposizione e soprattutto alla forza politica che comunque è arrivata seconda alle elezioni quindi era naturale che la compagine di Catano De Luca per se questa prerogativa stiamo parlando del metodo che ha portato all'elezione assolutamente sì nel senso che mi hanno cominciato a fare capire guarda che non sei gradito a molti personaggi a cui tu hai fatto inchieste perché inevitabilmente almeno 8 dei deputati tra cui qualcuno che fa anche l'assessore da cui ho fatto inchieste ho fatto le pulci dal punto di vista giornalistico ma di che partito almeno 10 ma sì c'è gente di Forza Italia c'è gente della Nuova DC della Lega c'è gente della Nuova DC che effettivamente siccome non le ho mandate mai a dire il fatto che io oggi ricopro questo ruolo è chiaro che quando passo c'è lo sghingazzio c'è loro che ridono mi sorridacchiano e quindi inevitabilmente mettono un veto sul mio nome io devo dire che sono andato la prima buccia di banana ti aspettano al barco io sono andato avanti ugualmente non sono riuscito a fare la presidenza della commissione di mafia oggi sono fiero di essere vice presidente della commissione di mafia però lì anche in commissione di mafia c'è stato un bel casino esatto che è successo perché allora spieghiamo a chi ci ascolta commissione di mafia commissione di mafia noi veniamo da una legislatura dove la commissione di mafia che non ha i poteri della magistratura quella sicilia però ha poteri di indagine può chiamare persone a testimoniare molto importante nella scorsa legislatura io credo si possa dire sinceramente che Claudio Fava abbia fatto un'eccezione del lavoro perché ha fatto un lavoro sia sui fenomeni mafiosi ma anche sui fenomeni per esempio di degrado sociale sull'assenteismo scolastico posso dire che ha fatto un buon lavoro tranne aver preso un grande abbaglio e questo lo dico pubblicamente volevo di aver fatto questa pseudo inchiesta sul caso Antoci la chiamo così perché io credo invece che lì siano fatti gravi errori Antoci lo dicono delle sentenze passate in via definitiva l'attentato che ha subito è di matrice mafiosa e lì si è messo in discussione che ci potesse essere una strumentalizzazione quindi come dire devo dire con molta onestà mi sento di chiedere scusa ad Antoci da membro e da vicepresidente della commissione antimafia perché è stato trattato in modo diciamo indecoroso rispetto a quello che lui ha dato quindi questo a parte questo poi per carità la commissione ha fatto un ottimo lavoro però bisognerebbe ritornare sulla vicenda Antoci perché comunque è vero è chiaro che la dinamica è quella di un agguato mafioso però ancora oggi non è che si sia fatta luce sui mandanti c'è rimasto un errore scoperto ma i mandanti questo non significa ovviamente che sia stato Antoci a farsi l'attentato ovviamente lì si è messo in discussione questo ed è un po' grave quando l'antimafia diciamo è impostata come la commissione antimafia mette in discussione diciamoci brutalmente Antoci forse ha pagato il prezzo di certe alleanze scomode forse sì nel senso che la mia impressione è che a volte quando la politica entra nell'antimafia e lo fa dando etichette di veri antimafiosi e falsi antimafiosi commette un grave errore e a margine chi ride se la ridono i mafiosi e dicono guarda questi che si fanno la guerra tra di loro quindi diciamo che bisogna avere più serietà rispetto a questa commissione però devo dire sono arrivato in questa commissione il giorno delle elezioni mi volevano a me presidente va bene ok per carità vuol lavoro vicepresidente vuol lavoro al presidente che sono sicuro che farà bene è un uomo che ha un passato è un presente lo metto in discussione io diciamo non sarevo ancora chi doveva farlo il presidente quindi diciamo io sono un'occasione di merito il merito è il fatto di mettere un veto sulla mia persona e dire questo non mi sta bene il veto già dimostra che si vuole a zoppare la commissione esatto chiaramente arrivo lì e mi trovo l'altro vicepresidente della commissione vicario quindi diciamo il numero due della commissione antimafia indagato per estorsione mi sono messo le mani nei capelli e ho detto ragazzi però diciamo è assolutamente in linea con la procedura con la quale è stato escluso dalla presidenza mi sono sentito su scherzi a parte ho detto ma veramente siamo seri dalle linee a scherzi a parte è un battito di ciglia è un attimo noi siamo una commissione che dobbiamo in qualche modo essere super parte io avevo capito che c'era qualcosa ora rubo qualche che c'era qualcosa che non dava perché la prima cosa che avete fatto con la commissione antimafia è stata andare a rendere omaggio alla lapide di Piola Torre io ho visto le immagini noi avevamo l'operatore da Videoregione abbiamo mandato l'operatore e ho visto le immagini di questa cerimonia dove c'era il presidente della commissione appena nominato Antonio Caracolici con al suo fianco il vicepresidente Ismael Lapardera e in fondo quasi nascosto alle telecamere come si dice direbbe una volta a Palermo ammucciato che si fumava una sigaretta e l'onorevole Genuso il junior sì sì quindi aveva già capito che c'era qualcosa che non andava è indagato per estorsione non vuol dire che verrà indannato è una questione di opportunità politica ho sollevato l'opportunità politica se fosse stato in commissione attività produttiva non succedeva posso dire che mi sarei aspettato che lo avesse fatto tutta quanta la commissione che si è posta io mi sono preso la patata bollente l'ho fatto il comunicato sono uscito per primo mi sono preso per l'ennesima volta il fatto di dire ah questo vuole fare casino eccetera va bene non mi interessa nulla ho fatto casino ho detto non è opportuno che il vicepresidente della commissione antimafia indagato per estorsione continui ad avere questo ruolo con tutti i crismi il garantismo mi chiama alla 7 vado all'arena da Giletti scoppia il caso nazionale l'indomani Genuso si dimette e si dimette anche da componente sul piano personale poi sperando che possa dimostrare la sua innocenza se è creato dell'attrito della ruggina devo essere sincero onestamente intellettualmente onesto lui è stato molto diciamo erino il giorno dopo è venuto mi ha detto guarda io ho fatto questa scelta mi auguro di poter dimostrare il mio stranetto infatti mi devi fare una promessa se così dovesse essere voglio ritornare in commissione mi devi dare merito e devi dare notizie del fatto che sono stato scusciotto lo dico pubblicamente Genuso non ce l'ho con te come in qualità di deputato ma con il principio secondo la quale quella commissione deve essere che la moglie di Cesare la moglie di Cesare deve essere più trasparente più innocente più esatto e meno emendabile di Cesare esatto ora abbiamo parlato dei massimi sistemi no? avete capito un po' qual è stato il livello di impatto tipo di scruscio arrivavo con scruscio come si diceva è la partena a Palazzo Normanni che ancora c'è il fantasma di Federico II che sono messo a dicendo minchia finalmente un picciotto bello tolsto perché chi si ricorda la storia di Federico II non era uno che andava tanto per il sottile lo stupor mondi no però diciamo ora ci rimane qualche minuto per raccontare le cose che ha fatto perché è vero che tu sei occupato dei massimi sistemi però caro Esmele ci sono anche degli impegni concreti che tu hai preso e più che degli impegni degli interventi concreti con quelle piccole cose quotidiane quasi di gozaniana memoria che però di solito non riescono a avere dignità nel Parlamento regionale per esempio tu che stai facendo una lotta per le farmacie che vengono ai prodotti dei celiaci che sembra una cosa che non riguarda una battaglia di nicchia ma è una cosa importante ci sono delle cose che ripeto appunto il problema della politica che parla dei massimi sistemi e si dimentica che c'è un mondo normale che chiede cose normali le bollette lo svincolo dell'autostrada di Bageria inspiegabilmente chiuso con le luci spente pardon effettivamente era rischiosissimo ma come lo svincolo di Bageria ovviamente l'interlocuzione con il sindaco di Bageria dice mando mail a Raffica mando una nota ufficiale all'ANAS che nel giro di 24 ore fa riaccendere lo svincolo di Bageria ora io dico non è normale ma c'è bisogno di intervento di un deputato ma è pazzesco però ti dico di sì nel senso che se tutti e 70 parlamentari che sono mi pare 70 facessero questo cioè l'ordinario io mi auguro i miei colleghi per carità lo faranno magari si renderà una regione più normale c'è gente che vende prodotti per celiaci negozi che vendono negozi per celiaci che hanno diritto a una retribuzione dalle ASPE di Palermo che non lo sono fatti in specie all'ASPE di Palermo e che hanno debiti per oltre 500 mila euro cioè loro danno un servizio al celiaco ma non ricevono i soldi dall'ASPE cioè cose che hanno che sono fuori surreale grazie di Dio tanto i celiaci non possono mangiare tutti i cibi quindi insomma stiamo parlando della sopravvivenza delle aziende ho fatto una battaglia sul carovoli e là sul carovoli devo dire che è erga omnes no no io so la storicità però no ci tengo a certe cose c'è la storicità delle cose sono tutte analizzabili però è importante che tappia se lo riguito pure il governatore infatti io devo dare merito il primo giorno in cui lui ha fatto le direzioni programmatiche io sono andato a parlare di lui dicendo guarda che io presidente farò una battaglia sul carovoli il primo giorno lui disse mi è arrivato pubblicamente arrivato l'onorevole faremo una battaglia io la condividerò quindi poi lui si è smosso ha fatto operazioni anche concrete coinvolgendo l'antitrust quindi diciamo che di fatto ha voluto gli va riconosciuto quindi non c'è diciamo una barriera precostituita pregiudiziale guarda ma anche con Catano De Luca quel gruppo di cui faccio parte c'è un lavoro diciamo concreto nel senso che se il governo fa cose giuste l'opposizione deve avere il coraggio di dire questa è una cosa giusta una cosa giusta non è un colore politico non è di testa né di sinistra è una cosa giusta e quindi se c'è una battaglia da portare avanti col caro Voli che riguarda tutti i nostri giovani che partono via i figli i niponi gli anziani va seguita a ruota non mi vuoi fare prendere la non è l'opposizione e basta io non sarò un oppositore fine a se stesso saremo opposizione quando ci saranno delle cose sbagliate vale a dire il bilancio che abbiamo appena approvato in questa svendita della Sicilia a 9 miliardi lasciati per prenderci 200 milioni il presidente però dice che questa roba non esiste perché c'è una sentenza della corte costituzionale ma tu devi battere i pugni per avere quello che spetta la Sicilia ma come si fa c'è questa arrendevolezza come si fa a combattere sul piano legislativo una sentenza della corte costituzionale però i presidenti della regione hanno avuto questo continuo come dire abbassare il capo chinare il capo a Roma perché lo dice Roma e non si è cercato di concretamente fare le battaglie per portare in Sicilia i soldi che spettano alla Sicilia in quanto la regione è salute autonoma perché ieri ho visto un comunicato di azione che diceva praticamente a livello nazionale il Parlamento ci ha svenduto per un euro a cittadino ma ci ha svenduto per un euro perché ripeto purtroppo i governi che ci hanno preceduto e quindi anche quest'ora di ora spero che possa fare un capovolgimento di fronte hanno questa rigorosa diciamo forma di servilismo al governo centrale ma non è capito niente gli Ascari come sempre il problema però è quello che in questo momento io dico a Schifani stai da due mesi al governo però tra due anni non aveva scuse perché aveva il governo nazionale dello stesso colore del partito regionale quindi la Meloni centrodestra centrodestra cioè se sbaglia questo governo con tutte le condizioni per fare bene non c'è un alibi che li potrà tenere quindi io mi auguro che farà bene per la Sicilia però se deve fare bene per la Sicilia ma ci sono i malumori quel posto che va lì quell'assessorato che va là Miciche che fa le bizze cioè le solite storie che abbiamo visto che sono sempre le solite cose fanno veramente male a quei siciliani che non vogliono occuparsi di politica e quando vedono queste barzellette dicono avevano ragione la domanda che mi faccio è e se avesse vinto Catano De Luca oggi a che punto saremmo a voi la risposta a che punto saremmo te la faccio io la domanda io credo che l'incisività l'operatività di Catano De Luca che ha dimostrato di sapere fare bene il sindaco a Messina di essere un bravo amministratore di essere una persona che veramente opera in modo diciamo pragmatico avrebbe fatto bene a questa terra l'hanno capito 500.000 elettori c'è ancora spazio perché io credo che questa nostra realtà sul dichiama nord del movimento di cui faccio parte di cui sono presidente non si è fermato ho detto due deputati a Roma abbiamo letto otto parlamentari in Sicilia abbiamo a marzo un'assemblea Roma di tutto quello che è il nostro movimento cioè è appena partita la nostra battaglia la corsa per la regione siciliana non è avuta questa volta ma la prossima volta sono convinto che sarà la volta buona quindi appuntamento al 2027 beh secondo me ma ci arriviamo al 2027 con il bilancio in queste condizioni un po' scangerato non ne faccio una questione di polemica politica nei confronti di uno dall'altra parte però oggettivamente non è stato approvato il bilancio siamo in questa forma di non di non capire che cosa siamo i dati fondamentali della Sicilia al punto di vista economico sono drammatici sono drammatici infatti la domanda è ma se sono accorti a Pazzolone secondo te lo sanno o fanno finta di nascondere la polvere sotto il tappeto un po' come si è fatto sempre c'è questa rassicurazione che tanto a Roma abbiamo degli amici tanto a Roma c'è la Meloni ma non vuol dire niente ma anche a Roma ha i suoi bei problemi lo so ma con la recessione galoppante l'inflazione non credo che a Roma poi soprattutto un dettaglio politico ora le regioni del nord prima di tutto chiedono l'autonomia differenziata è la morte civile dell'autonomia siciliana è la morte civile dell'autonomia siciliana perché comunque è stata sempre quella storia la storia si ripete sempre non c'è storia che appunto non si ripeta e io credo che questo governo deve battere i pugni per difendere la Sicilia io mi aspetto uno schifani che si vada a sedere al Consiglio dei Ministri quando si parla di materie che riguardano la Sicilia e dica noi non ci stiamo ecco questo mi aspetto schifani esci fuori come si dice gli attributi perché devi difendere gli artigli io dico attributi perché sono più delugiano sotto questo punto di vista però devo dire che fino ad ora quando l'abbiamo punzecchiato lui ha risposto presente sarà così da qua ad avanti vediamo un po' il tempo a nostra disposizione è sinito io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato un buon 2023 e insomma seguiremo le tue battaglie a Palazzo dei Normanni grazie viva 2020 grazie a chi ci ha seguito grazie a Ismaele alla prossima puntata di Talk of Sicilia buon anno a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.